Disimballaggio delle stampanti delle serie HP DeskJet 3700. La prima cosa da fare è rompere il nastro e aprire la scatola. All'interno della scatola si trova il cavo di alimentazione. A seconda della regione e del luogo in cui è stata acquistata la stampante, è possibile ricevere un cavo USB. Questo è il foglio di avvertenze per l'inchiostro, che vi raccomanda di non ingerire l'inchiostro. La prossima è la cartuccia nera numero 65. Quando si imposta la stampante, è necessario utilizzare queste cartucce di impostazione, altrimenti l'impostazione non andrà a buon fine. A seconda dell'area geografica e dello specifico modello, il numero della cartuccia potrebbe variare. Ecco la cartuccia di configurazione tricolore numero 65. Questa è la scheda HP Instant Ink per questa stampante. In alcuni paesi, HP offre la possibilità di registrarsi per ricevere a domicilio le cartucce di inchiostro per alcuni modelli. I costi variano in base al piano di abbonamento selezionato. Questo servizio non è disponibile per tutte le stampanti HP. Ruotate la confezione per accedere alla stampante. Tenendo la scatola, afferrare la stampante e farla scorrere fuori. Ci sono alcuni opuscoli e guide supplementari da consultare. Questa è la guida di configurazione per questa stampante. Qui sono riportate le fasi per la configurazione della stampante. La successiva è la guida di introduzione che contiene informazioni su funzioni aggiuntive per la vostra stampante e alcune procedure di base per la risoluzione dei problemi. Quindi rimuovere le calotte di polistirolo da ogni lato della stampante. Rompere la plastica e rimuoverla dalla stampante. Rompere il cavo di alimentazione che era stato messo da parte in precedenza e rimuovere la fascetta. Inserire un'estremità del cavo di alimentazione nel retro della stampante. Inserire l'altra estremità in una presa a muro. In questo video stiamo usando una ciabatta multipresa, ma HP consiglia l'utilizzo di una presa a muro per risultati ottimali. Grazie a tutti.